Giovedì 19 febbraio, buongiorno a tutti voi, ben ritrovati, sono le 7.31 minuti e siamo in diretta per Occhio ai giornali, la rassegna stampa di Fano TV che apre la giornata informativa con la lettura dei quotidiani, il Carlino, il Corriere, il Messaggero, tra poco, prima il calendario per vedere il Santo di Oggi, oggi è San Mansueto, il sole è sorto alle 7.01 e tramonterà alle 17.43, un'altra bella giornata di sole, ci attende, vedete questa è la fotografia scattata dalla nostra webcam e che potete vedere in tempo reale, sempre aggiornata sull'osservatorio, sulla pagina dell'osservatorio meteorologico di Fano TV che è accessibile dalla pagina internet occhianotizia.it, la temperatura, qui ci sono anche qui, vedete i dati tutti aggiornati alle 7.30, temperatura in questo momento di meno 0.1, quindi insomma 0 gradi e freddo, senza altro, freddo, non c'è vento, non piove ormai da un po' di tempo, un po' di giorni, allora il tempo per oggi, velocemente, sole, sole su tutta la regione, temperatura in diminuzione nei valori minimi, per domani, venerdì 20 lo stesso, sole su tutta la costa, qualche addensamento nell'entroterra, sabato, sabato 21, il cielo si guasta un po', sarà parzialmente nuvoloso nella mattinata con copertura in graduale aumento da ovest nel corso della giornata. Non si escludono fenomeni sparsi dalla serata nel settore meridionale, vedete sui sibillini la pioggia, temperature in lieve aumento, venti debole e moderate dai 40 meridionali. Tra domenica e martedì è previsto tempo instabile sulla nostra regione con possibili precipitazioni, meno probabili nella giornata di lunedì, le temperature saranno senza grosse variazioni di rilievo. Allora, ieri in Comune si è parlato, si è votata la delibera sulla variante dello zuccherificio, come era nelle previsioni il Consiglio Comunale ha votato in gran parte per il no, dunque quegli scheletri, quelle brutture, così lo hanno definito, insomma rimarranno lì ancora per molti, molti anni, anche se adesso c'è l'impegno a riprendere un dialogo con la società Madonna Ponte che è proprietaria di quell'area e di rifare tutto da capo con un inter un po' più accelerato, un po' più avanzato. Nella pagina di Fano si parla anche di questo, ultimo atto come la copione no alla variante, zuccherificio, lungo consiglio sigla la bocciatura, chiesto parere del segretario generale. La cucuzza che ha votato sì a quella variante, la giunta dovrebbe dimettersi, ha detto nel suo intervento, ha scaricato la bocciatura sulle spalle del Consiglio Comunale. Le altre pagine, ma al tempo dei giorni scorsi c'è un incontro tra il sindaco e i bagnini, supera i 2 milioni, intanto la stima dei danni, 58 le domande di risarcimento, oggi come dicevo ci sarà un incontro. La storia di Orazzi che ha piantato una siepe davanti al suo ristorante per cercare di abbellire un pochettino il giardinetto e adesso deve pagare 50 euro di multa, è stato multato dai vigili. La protesta di Gabriele Orazzi, titolare dell'hotel Augustos. Volevo solo abbellire il giardino di fronte a me, serviva a proteggere i bambini dal traffico vicino. Siamo, per chi non conosce la zona, proprio sul canale, sulla Darsena, borghese. Lui dice io chiedo che la siepe rimanga lì perché avrebbe dovuto piantarle il Comune. Va bene la multa perché non ho chiesto l'autorizzazione ma ormai che c'è si consideri che non ho danneggiato nessuno e tutti ne possono godere. Insomma, ho dato una mano, ha detto Orazzi. Un camper fuori al freddo per iscriversi al nuoto. Un padre, dice il Comune, non ci ha concesso di meglio. Altri problemi per la piscina, Dini e Salvalai. Vedete qui il camper della Fanon Fortuna è parcheggiato davanti alla piscina. Poi non ci si stupisca che la gente vada a Pesaro. Qui la situazione è orrenda. Fratterosa invece, dal Consiglio d'Istituto, si è ufficiale per la scuola con il metodo Montessori. Il sindaco del paese di Fratterosa, Valtroni, dice noi siamo l'unico Comune della provincia col ciclo completo materna primaria. Patenti facili, patenti nautiche per andare in mare. Sette imprenditori sono nei guai. Arrestato un ex luogotenente della Capitaneria. 13 mila euro da ognuno. L'inchiesta è partita da Rimini. Anche un primo maresciallo romagnolo è finito agli arresti. Decisive le intercettazioni ambientali. Il processo Ferri. Mio fratello ammazzato con un colpo al midollo. Ho rivissuto un incubo. Parla Michele Ferri che racconta le sue sensazioni in aula. È stato ricostruito dunque l'agguato mortale al benzinaio che fu giustiziato con 5 colpi di pistola. Di cui l'ultimo da pochi centimetri alla schiena. Le tracce rilevate dal RIS sul guanto sequestrato con la pistola. Andiamo sulle pagine di Fano del Corriere Adriatico. Ordinanza sui botti. Il sindaco non sono superman. Rispondendo a Marta Ruggeri di Fano 5 Stelle. Massimo Seri ha ammesso le carenze del divieto. In futuro ha detto il sindaco farò di meglio. Questo lo ha fatto. Questa risposta l'ha data a Marta Ruggeri ieri nella prima parte del Consiglio Comunale. Poi la cronaca, centropagina sul Corriere. Danno fuoco due volte allo stesso deposito. Stiamo parlando dell'incendio che è avvenuto l'altra sera in Via delle Querce a Fano. Danni alla pasticceria e alla banca. Ritardi anche per Cake in the City che si svolgeva proprio lì sopra. L'altro caffè, quello di Guerrino, nell'area dell'ex zuccherificio. Nel Mirino forse c'era l'altro caffè. Il titolare però dice noi non abbiamo mai ricevuto alcun tipo di minaccia ma il locale può fare invidia a qualcuno. Ex zuccherificio, il Comune dovrà rimborsare gli oneri dopo la bocciatura della variante per la destinazione commerciale. Sinistra Unita sulla porta di Fano Sud dice era una scelta scellerata. Discutiamo adesso di sviluppo. Scogliere, scogliere e scontro sulle priorità. Il Comitato Lebrecce critica la confartigianato. Seri oggi convoca gli operatori balneari. Il conflitto è tra la tutela delle abitazioni e quella delle attività balneari. Ginesi, che è del Comitato, dice si acceleri l'iter. Asilo senza riscaldamento. Sindaco protesta con l'Enel. Niente corrente. Disservizio con breve preavviso. Il disagio di ieri al Vallato si ripeterà oggi nelle due scuole dell'infanzia ubicate a Sant'Orso. Ancora dal Corriere Adriatico, sul Catria, piste aperte ad oltranza. Tanta neve ed una miriade di iniziative. Rapporto stretto anche con le scuole. La pagina di Pesaro invece da Urbino. L'amianto sotterrato da Pecchio. L'ex dirigente dell'Asur Giovanni Capuccini sceglie di non parlare. C'è stato l'interrogatorio di garanzia. Capuccini tace davanti al giudice. Nei prossimi giorni sfileranno di fronte a Savino anche Orazio Ioni e Massimo Pazzaglia. Andiamo sull'ultima pagina del Corriere. La pagina di Pesaro Urbino. Prende in giro il nord delle Marche. Ricci e seri contro Mezzolani. sul taglio dei soldi, del budget, del budget di ospedali e area vasta. Promesse non mantenute mostri almeno un sussulto di responsabilità ripristinando il plafond. Dunque i due sindaci di Pesaro e Fano si lamentano con l'assessore regionale alla sanità Mezzolani per il taglio del budget agli ospedali e all'area vasta. Andiamo sul messaggero per chiudere occhio ai giornali di questa mattina. Allora, Pesaro, Sanità, la rabbia dei due sindaci. Ricci e seri fortemente critici con la regione. Sui fondi per le Marche Nord ci ha preso in giro. La situazione è insostenibile. Dicono ci avevano promesso il ripristino del budget. Invece l'hanno tagliato. A centro pagina vedete Sabanov. Donald Sabanov presente all'udienza di Corte d'Assise accusato di aver sparato e ucciso Andrea Ferri. Ricciatti invece l'onorevole Di Sell. Amianto sepolto potrebbero esserci altri casi. La deputata dice col nevone scomparse molte tettoie di Eternit. E ancora dal quotidiano romano la pagina regionale. Carloni del nuovo centrodestra. Alle Marche serve una stagione di riforme. Un sondaggio assegna ad api tra il 17 e il 21%. La strada intrapresa è quella giusta. Differenziata una multa alla giorno. Sono ben 306 verbali del 2014 in tutta la provincia. Sanzioni da 50 a 70 euro per chi divide male la spazzatura. Marche Multiservizi lancia la campagna contro l'abbandono di oggetti ingombranti. Brutta abitudine. Dicono che costa tanto. Ancora dal giornale l'inserto di Pesaro denunciato il pensionato pirata. Non mi ero accorto a detto di aver investito quella persona. Traumi facciali e prognosi di 30 giorni per il giovane 25enne pesarese travolto. È stato rintracciato il pensionato grazie ai testimoni che hanno ricostruito il numero di targa dell'auto. Il 69enne è stato denunciato per omissione di soccorso. Ancora qui Sanità la Regione ci prende in giro sui tagli del budget. Chiudiamo con la pagina di Fano. ex zuccherificio, l'ultimo no del centro-sinistra. Ieri sera il Consiglio Comunale si è riunito per la bocciatura del progetto. Severi ha detto che è una sconfitta per tutta la politica. Severi, che oggi fa parte della maggioranza, per, come dire, per serietà, ma per coerenza. Ecco la parola giusta che ha utilizzato anche lui più volte, sottolineandola anche nei confronti dei suoi oggi colleghi di partito di maggioranza. All'epoca era con Aguzzi, però ha detto per coerenza. Io voto per questa variante. L'assessore Paolini, il punto non è tutelare gli interessi dei negozianti, il fatto è che non c'è posto per tutti. Incontro con il senatore Maurizio Gasparri, Forza Italia, sarà il vicepresidente Gasparri a chiudere l'incontro. Cinque anni di lavoro per costruire il futuro della nostra regione, organizzato da Forza Italia per sabato alle 17.30, la cooperativa Tre Ponti di Fano. Canale inquinato, dati secretati, la magistratura ha acquisito le analisi per scovare il responsabile della macchia oleosa nel canale Albani. E sotto ancora la burrasca e la mareggiata costeranno 8 milioni di euro. Ammonta tanto una prima stima orientativa degli sconquassi provocati dalla mareggiata di Sant'Agata, che nei giorni scorsi ha flagellato la nostra costa e in modo particolare le spiagge di Gimarra. È carina questa cosa di Osvaldo, che ha dato un nome alla mareggiata prendendola probabilmente dal santo del giorno. Va bene. Carifano, crediti agevolati ai danneggiati del maltempo. Si fanno avanti anche le banche, meno male. Qualcuno in qualche modo cerca di dare una mano. La banca Carifano ha predisposto interventi rateali a condizioni agevolate per privati, artigiani, piccole e medie industrie che siano stati colpiti dall'ondata di maltempo di alcuni giorni fa. L'incendio sembrava spento, invece riparte a tarda notte. Due incendi consecutivi, ve l'abbiamo già detto, quelli che sono divampati nello stesso punto, nello stesso garage, nello stesso magazzino, a distanza di poche ore l'uno dall'altro. E con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito. Buona giornata a tutti.